Ecco la Cervelo R5 California della Maglia Rosa Raibera Hellstall, come possiamo vedere è stata tutta personalizzata per celebrare la Maglia Rosa che il corridore canadese ha conquistato a Rocca di Campo. Il nastro manubrio è stato personalizzato, il logo della Cervelo sul tubo di sterzo, attorno al quale è stato applicato una semplice adesivorosa, la guarnitura della rotor e un fino piccolo freggio sul tubo superiore. Particolare è il fatto che Hellstall è uno dei pochi corridori a utilizzare il modello R5 California, molti dei suoi colleghi di squadra, ad esempio Navardauskas oppure Sebastiano Rosler, hanno preferito utilizzare la S5 che è un modello della Cervelo più votato per le classiche, le corsie in linea, che è molto più aerodinale con la R5 California. La R5 California invece è una bicicletta molto più leggera, con una geometria meno esasperata e a detta del meccanico del team Garmin Barracuda, più adatta per la salita. Ancora sulle biciclette Cervelo del team Garmin Barracuda e ancora sul modello S5 possiamo vedere che il particolare reggisella consente una doppia posizione della sella attraverso questa struttura con un doppio foro. In questo caso la sella è posizionata in maniera molto avanzata, mentre in questo, cioè quello di Robert Hunter, la sella è posizionata indietro nel foro più arretrato del reggisella. Chiaramente l'escursione concessa da questo doppio foro va aggiunta a quella concessa dal telaio della sella stessa che quindi realizzano un arretramento totale di circa 12 cm.